Voi sentite la mia voce. Voi ascoltate quello che racconto quando sono qui al Vargin Motel. E sicuramente vi siete costruiti una certa immagine di me. Potrei scommettere che siete convinti che io sia un duro, un Casanova. Quindi sono sicuro che restereste sorpresi se vi dicessi che la parte che amo di più del mio carattere è quel lato di insicurezza che fa sì che le altre persone si fidino di me. Io non giudico. E questo mette gli altri a proprio agio. Si raccontano e sentono che non hanno bisogno di giustificarsi per i loro errori e le loro debolezze. È un'attitudine naturale. Mi nasce da dentro. Spontanea. Io lascio che sia. Sono Ottaviano Bleach. Se non mi avessi, mi mancherei tantissimo. Virgin Motel Con Ottaviano Bleach Ma chiamatemi pure Bleach Virgin Motel Giovedì e domenica alle 22 su Virgin Radio Giovedì e domenica alle 22 su